In Toscana sono due ballottaggi, a Sansepolcro e a Massarosa. Domani e lunedì in palio c'è la vittoria e quindi la designazione del sindaco. Nel comune della Versilia, dove l'amministrazione è caduta prematuramente, Lega e Forza Italia hanno deciso di sostenere Carlo Bigongiari, che ha ottenuto il 31,7% al primo turno. Mentre Fratelli d'Italia aveva appoggiato l'uscente Alberto Coluccini, che invece si è assestato al 17,5%. Alla fine si è deciso per l'apparentamento al secondo turno, quindi il partito della Meloni, insieme agli alleati, sosterrà Bigongiari, che deve vedersela con Simona Barsotti del centro-sinistra e il suo 48,4%. A Sansepolcro invece nel ballottaggio si sfideranno Andrea Laurenzi, candidato del centro-sinistra, e Fabrizio Innocenti, candidato di una coalizione comprendente Lega, Forza Italia e Movimenti Civici. Il distacco fra i due principali candidati alla fine del voto di due settimane fa era stato davvero minimo. Laurenzi aveva fatto registrare il 40,60%, sopravanzando di poco Fabrizio Innocenti, che si è attestato al 39,54%. Ma come si sa, i ballottaggi sono da sempre una nuova storia. La lista civica Sansepolcro Futura non ha deciso per nessun apparentamento con il candidato di centro-destra, che le aveva offerto anche un posto da assessore nella sua eventuale giunta, ma l'offerta è stata rispedita al mittente. Dall'altra parte, Laurenzi ha già presentato la sua ipotetica squadra di governo in una diretta social. Alle 15 di lunedì, alla chiusura dei seggi, si saprà come è andata. Lo spoglio dovrebbe essere veloce, sicuramente più veloce, del primo turno di voto di due settimane fa.